La storia e la figura di padre Chino fanno parte della mia vita, l'ho conosciuta fin da piccolo. Già il nonno mi parlava di questa favola, a me sembrava una favola, di questo missionario gesuita che è partito dal mio piccolo paese della Val di Non, è arrivato fino in Messico e aveva fatto delle cose grandiose. Mi ha dato un forte spirito imprenditoriale, infatti pensando che in quegli anni una persona è riuscito a fare ciò che ha fatto padre Eusebio Ochini, mi ha sempre aiutato a raggiungere i miei obiettivi. Perciò per me è un vero insegnamento di imprenditoria, anche se lui lo faceva come missionario di beneficenza, però a tutti gli effetti era un imprenditore vero e proprio per le cose che è riuscito a fare. Grazie a tutti.